Ciao a tutti, eccomi tornata finalmente per il risposto della prima match di gioco Chi ha vinto? Sono anche un po' emozionata di girare il video Infatti continuo a fare errori su errori A parte questo, partirei dall'ultima squadra per arrivare alla vincitrice Così, vabbè, almeno si fa un po' di suspense L'ultima squadra, la peggiore di tutte È quella della diposeria La numero 9 E... ho pensato questo Se anche la prossima settimana la diposeria arriverà ultima Un componente a caso della squadra Io Verrà punito severamente Se avete qualche idea di punizione Scrivetemele qui sotto che saranno ben accette Non tipo tatuaggi in faccia Eccetera Comunque, cercheremo di non arrivare nuovamente ultime, vero ragazze? A parte questo, mi piace perché devo dare l'esempio E arrivo ultima Molto bene La squadra penultima arrivata È quindi la numero 12 in classifica È quella delle vitasnelle Le vitasnelle Ah, la diposeria ha perso 0,3 kg a testa Quindi neanche un chilo Vabbè Le vitasnelle Sono state più bravine di noi E hanno perso 0,94 kg a testa Io il mio fogliettino post-it Perché se no non riesco 0,94 a testa per le vitasnelle La squadra che arriva undicesima è quella delle meringhe Le meringhe hanno perso 0,96 kg a testa La squadra successiva è quella delle ciocobanane Che hanno perso 0,97 kg a testa Che però ha tanto di cappello perché le ciocobanane avevano pochissimo da perdere Quindi brave comunque bravissime E subito dopo vengono le profiterol Le profiterol sono state già più bravine Hanno perso 1,03 kg a testa Per un totale della squadra di 9,3 kg Poi vengono le insalate miste O insalata mista Che è la squadra mi pare 13 Che ha perso 1,05 kg a testa Per un totale di 9,5 kg Poi successivamente vengono le muffin Le muffin hanno perso 1,08 kg a testa Per un totale di 38,5 kg Ammazza muffin Dopo vengono le frullate Le frullate hanno perso 1,15 kg a testa Per un totale di 4,6 kg Erano solo in 4 le frullate ultimamente Almeno quelle che mi hanno spedito in tempo Le misure Quindi brave Ora siamo nella top 5 ragazzi Quelli che sono arrivate La squadra che è arrivata al quinto posto È quella delle pagnottelle Le pagnottelle hanno perso 1,2 kg a testa Per un totale di 6 kg Squadra che arriva al quarto posto Mannaggia Potevate arrivare al terzo, secondo posto Primo posto Erano le morositas Le morositas hanno perso 1,26 kg a testa Per un totale di 11,4 kg E ora siamo alle prime tre squadre La squadra che si è classificata terza Bravissime Quella delle cookies Le cookies hanno perso 1,3 kg a testa Per un totale di 10,5 kg E 58 cm Bravissime Bravissime Comunque Seconda Qui Ci saranno delle persone che si ulteranno Quelle della prima squadra Comunque Seconda classificata È la squadra delle amazzone a vapore Che sono state bravissime Hanno perso 1,71 kg a testa Io faccio una media chiaramente Per tutti quanti Per un totale di 8,5 kg 13,7 cm E ora Vabbè L'avrete già capito Però Un applausone Se riesco a trovare L'effetto sonoro Magari lo scarico ce lo metto sotto Un applausone Sul serio Alla prima classificata Della prima manche La squadra delle patatine Che sono state allucinanti Cioè ci hanno schiacciato Le patatine ci hanno schiacciato Sono state le patatone Vabbè E Hanno perso 2,22 kg a testa Ammazza Per un totale di 17,8 kg E Un totale di 81,5 cm E Fra In questa squadra La ragazza che è stata più brava Non solo in questa squadra Ho controllato velocemente E È quella che è stata più brava in assoluto È stata Luana Quindi Complimenti Sei stata bravissima Lei da sola ha perso 6,1 kg E 42 cm Tanto di cappello Non so che dirti Luana Bravissima Bravissime tutte Grazie tutte Per aver partecipato Sono tanto contenta Che questa prima manche Sia andata Abbastanza liscia E Ora Appena posso Subito Pubblicherò Le squadre Con i nuovi componenti Perché alcune ragazze Hanno abbandonato Altre Si sono aggiunte Quindi più o meno Rimarremo sulle 8 componenti Per squadra Più o meno Tanto in ogni caso Vedete io faccio la media Cioè I chili totali Che avete perso Diviso Il numero di ragazze Che hanno partecipato Cioè Che hanno dato i loro risultati In tempo E Niente Già che c'era Ho anche calcolato Quanti chili Quanti centimetri Abbiamo perso in tutto Noi abbiamo giocato Almeno Mi hanno dato i loro risultati In 98 98 persone E in tutto Abbiamo perso La bellezza Di 509 39,38 cm E 115,6 kg Quindi Per ora Direi La seconda mancia E vede questo video Mi mandi immediatamente E non me le ha già mandate Mi mandi immediatamente Le sue misure Le sue misure Che saranno inserite In una delle squadre Che hanno perso Più componenti Basta Mi mandi un messaggio personale Su facebook Il gruppo Mi metto il link Nell'info box Così mi trovate Cioè ci trovate E Avete tempo Per inserirvi Nella seconda mancia Fino a Domani mattina Dopo Basta Quelli che intervengono Successivamente Saranno inseriti Nella terza mancia Fra due settimane Grazie mille Alle caposquadre Che mi hanno aiutata Moltissimo Un bacione E Grazie a tutte Grazie Per aver giocato È bellissimo Ciao